Signori e signori amici e amiche di Player Inside, mi trovate stavolta in solitaria giocoforza perché sono qui alle 4 del mattino per annunciarvi la prima piccola grande breaking news di questo 2022 che si apre quindi col botto. Un botto relativo se vogliamo, parliamo di Sony che ha annunciato ufficialmente il PlayStation VR2, che era un po' il segreto di Pulcinella se vogliamo, ma adesso abbiamo le caratteristiche ufficiali e ne parleremo subito, e poi anche un titolo per PSVR2 in esclusiva, quindi per PlayStation 5, ovvero Horizon Call of the Mountain. Un nuovo episodio di Horizon? Sì, ma anche no, perché sarà un episodio appunto dedicato alla periferica per la realtà virtuale di Sony per la nuova generazione di console PlayStation, quindi per PlayStation 5. Vediamo insieme che cosa ci è stato mostrato da Sony. Stavamo aspettando Horizon Forbidden West in uscita il 18 febbraio di quest'anno ed ecco che come un fulmine a ciel sereno arriva la notizia direttamente da Griglia Games e Fire Sprite di un nuovo Horizon in esclusiva PlayStation 5, in particolare in esclusiva PlayStation VR2. Parlando del gioco, sostanzialmente si tratta di un'esperienza molto immersiva che ci immerge appunto nel mondo di Horizon, per cui fin qui fantastico, perché se effettivamente c'era qualcosa che ci piaceva tantissimo di Horizon, già Zero Dawn per PlayStation 4, era effettivamente il mondo di gioco caratterizzato da tanti biomi, da tanti ambienti, che onestamente a percorrere in questa maniera, quindi con il VR, sono molto allettato. È una cosa che mi piacerebbe molto fare e che mi sarebbe piaciuto già prima fare. In effetti mi stupivo del fatto che per il primo PlayStation VR non ci fosse un software del genere che mi permettesse di girovagare nelle lande di Horizon Zero Dawn, ma ovviamente tempo al tempo è arrivato. Il gioco viene descritto come la prima esperienza mostrata al pubblico di ciò di cui sarà possibile fruire su PS5 grazie a PSVR2, nome della periferica peraltro confermato come volevano i rumor di mesi e mesi fa e con buona pace della fantasia, della creatività dal punto di vista dei nomi in casa Sony che è abituato ormai da anni a inserire dopo il nome PlayStation un numero in ordine crescente dopo ogni sua console, tranne che per le console portatili, PSP e PS Vita. Dal breve trailer si nota la potenza tecnica dovuta al nuovo hardware sia a livello di console, PS5, sia a livello di visore per la realtà virtuale, VR2, e anche dal punto di vista del gameplay. A dispetto del trailer, Guerrilla e Firesprite promettono nuove frontiere dell'innovazione, della tecnologia e dell'immersività. Dunque è lecito aspettarsi che non si tratti semplicemente di un non-gioco in stile visita guidata di un parco, ma che ci sia maggiore interazione con l'ambiente di quello che possiamo per adesso carpire dalle immagini. Come detto in apertura, l'intento di questa breaking news è duplice, riguarda infatti non soltanto Horizon Call of the Mountain, ma anche il PlayStation VR 2. Avendo quindi capito di che cosa si tratta nel caso di Call of the Mountain, passiamo adesso alle caratteristiche hardware di PlayStation VR 2, che sono molto, molto interessanti. Anzitutto, lo abbiamo già detto, il nome ufficiale PlayStation VR 2, e il controller per poter interagire con la realtà virtuale si chiama, in linea con il controller tradizionale da casa per PS5, PlayStation VR 2 Sense Controller, che richiama appunto il DualSense. Il prodotto, comprensibilmente e sicuramente in modo non imparziale, viene presentato da Sony come un visore per la realtà virtuale che possa garantire un maggiore senso di presenza e fuga verso mondi virtuali. Come mai prima d'ora? Con le cuffie indossate e i controller VR 2 Sense, sostiene Sony, si potrà provare una vasta gamma di sensazioni mai provate prima con altri visori. E siccome noi non stiamo qui a fare la marchetta, ma semplicemente a dare una notizia, effettivamente dobbiamo anche capire che ognuno tira l'acqua al suo mulino, pertanto è chiaro che da Sony ci dobbiamo aspettare esclamazioni, affermazioni di questo tipo, grandiose, su larga scala, perché effettivamente, che volete che dicano? Che sarà fantastico, che sarà immersivo, ma in realtà sembra davvero interessante. Lo vediamo meglio subito. Si parla insomma di PlayStation VR 2 come di qualcosa che permetta una reale esperienza next-gen con alta fedeltà grafica, nuovo tracking sensoriale, soltanto un singolo cavo per attaccare il visore direttamente alla console tramite porta USB di tipo C. Oh, e questa è una bella notizia, signori. È una bella notizia, perché tutto quello a maradam che era necessario per poter usare PlayStation VR 1, se così vogliamo definirlo ormai, effettivamente era la ragione per cui molto spesso, una volta che lo staccavo da una postazione, mi scocciava tantissimo a riattaccarlo e poi soprattutto quei cavi tiravano come una madonna. Adesso sarà sempre un cavo a collegare il visore per la realtà virtuale di Sony alla console Sony, quindi a PlayStation 5, ma solo un misero cavo. Non è wireless, non è Wi-Fi, non è Bluetooth, non è quello che volete voi, però effettivamente è già qualcosa, ovvero la possibilità di usare solo un cavo che si collega direttamente a PlayStation 5, peraltro, quindi senza alcuna necessità di avere qualcosa che possa alimentarlo a livello esterno, pertanto com'era il PlayStation VR. E se c'era una cosa che odiavo, era appunto tutto quel groviglio di cavi, quell'insieme di cavi che me lo faceva onestamente cadere dal cuore. Stavolta hanno risolto con un solo cavo e molto bene così perché anche tanti altri visori top di gamma per PC effettivamente richiedono almeno un cavo, pertanto, bene. 4K HDR 110 gradi di campo visivo e fovited rendering che in sostanza, e prendendo da Wikipedia, è il rendering distorto, ovvero una tecnica di rendering che utilizza un eye tracker integrato con un visore per realtà virtuale per ridurre il carico di lavoro del rendering, riducendo la qualità dell'immagine nella visione periferica in maniera tale che quella frontale risulti parecchio nitida. Display OLED, risoluzione di 2000x2040 per singolo occhio e 90, 120 Hz a seconda del gioco. Il VR2 ha anche videocamere integrate nell'headset, quindi non ci sarà alcun bisogno di videocamere esterne per PS5 per poterlo usare. Con buona pace di quelli che hanno mantenuto la propria PlayStation Eye, come si chiama, PlayStation Camera, per PlayStation 4 nei propri salotti, magari sul proprio televisore, l'ho fatto anch'io, effettivamente adesso posso liberarmene, o per quelli che hanno acquistato la PlayStation Camera nuova per PlayStation 5 in previsione di un PlayStation VR 2. Spero non l'abbiate fatto per questo, perché una PlayStation Camera effettivamente può servire anche ad altro, per esempio a fare le live direttamente da PlayStation, il che è una cosa comoda per chi non ha troppe velleità di fare lo streamer chissà con quali grafiche, chissà con quali orpelli, però non servirà per PlayStation VR 2. VR 2 gode di una combinazione tra eye tracking, feedback direttamente sul visore, audio 3D e il già citato e innovativo PSVR 2 Sense Controller, che garantisce, a detta di Sony, un'immersività senza precedenti. Questo controller amplifica le sensazioni delle azioni compiute nei giochi e costituito da un singolo motore con vibrazioni in modo da simulare la sensazione tattile, come se stessimo toccando gli oggetti. Per esempio, riportiamo direttamente dal PlayStation Blog, i giocatori potranno percepire le pulsazioni cardiache durante i momenti più intensi, gli oggetti che sfiorano la testa del giocatore, per esempio dei proiettili o altro lanciato contro, o l'accelerazione di un veicolo man mano che si aumenta la velocità. Il tutto accompagnato dalla tecnologia audio di PS5 Tempest 3D Audio Tech, che permetterà di sentire i suoni provenire da varie direzioni, circondando il giocatore con effetti realistici. È parecchio notevole quindi la risoluzione, è parecchio notevole il fatto che va da così tanti hertz, quindi da 90 a 120 circa, è parecchio bello il fatto che il VR2 Sense, cioè il controller, permetta di sentire in qualche modo ciò che stiamo toccando, o quantomeno, per come viene descritto su PlayStation Blog, per come l'ha descritto Sony, capire, o quantomeno percepire in un modo o nell'altro, in modo intelligente, definiscono loro le sensazioni tattili, anche attraverso il motore che genera queste vibrazioni, grazie alla quale noi possiamo, diciamo, creare questa sorta di succedaneo, di sostituto del tatto, che non è una cosa da poco, perché ci stanno lavorando, anche in Facebook Meta, stanno lavorando a qualcosa che possa effettivamente fare le veci di queste vibrazioni, però ancora sono in mezzo a una strada, effettivamente per adesso questo tipo di tecnologia sembra quella sia più alla portata di tutti, anche a livello economico, probabilmente comunque Sony dovrà rientrare in certi costi, non sappiamo ancora quanto costerà PlayStation VR2, ma verosimilmente, insomma, volendosi sbilanciare, saremo sui 300-400 euro, non voglio pensare 500, perché effettivamente forse sarebbe quella soglia psicologica che potrebbe infastidire il giocatore medio, il consumatore medio, e poi anche perché effettivamente si tratta di una soluzione che sotto questo punto di vista non è stata vagliata da molti, cioè anche altri visori di realtà virtuale parecchio interessanti e top di gamma come il Valve Index o l'Oculus Rift, effettivamente non hanno soluzioni tattili di questo tipo, hanno sì controller parecchio precisi, più precisi che in passato, ma nessuna soluzione tattile davvero ragguardevole. L'eye tracking permette di rilevare i movimenti degli occhi in modo da usarli come input di comando, in questo senso tutto diventa più realistico, cioè se noi in un gioco, in realtà virtuale, fissiamo un personaggio, lo fissiamo negli occhi, quello a un certo punto si potrebbe pure incazzare, grazie all'eye tracking, perché il gioco, il software, insomma, rileva che noi stiamo guardando, stiamo fissando i suoi occhi oppure stiamo fissando una parte del corpo che non dovremmo fissare, mentre invece finora gli NPC o comunque personaggi con cui interagivamo erano una sorta di bambole che si triggeravano all'azione precisa, per esempio dar loro un oggetto oppure passargli qualcosa, ma non se li guardavamo e basta e quindi potevamo spulciarli e addirittura compenetrarli come volevamo. Dice, ma forse era meglio prima perché in questo modo potevo fare quello che volevo in certi giochi. Vabbè, ma quelli saranno sempre studiati, quei giochi là che ti piacciono, saranno sempre studiati affinché tu possa fare un po' quello che vuoi. Quindi non è questo il problema. Il PSVR 2 Sense, il controller, è dotato anche di feedback aptico e grilletti adattivi, come il DualSense. Qui di seguito potete leggere voi stessi quelle che sono le caratteristiche, anzi vi rimandiamo nel link in descrizione al PlayStation Blog ufficiale, del PlayStation VR 2 e del PSVR 2 Sense Controller. Ci sarà un po' da confondersi con tutti questi nomi, però di base il nome principale, ovvero PlayStation VR 2, è molto semplice. Dopo il PlayStation VR viene il PlayStation VR 2. E va bene così. Signori, fateci sapere che cosa ne pensate, cosa ne pensate anche di un'esperienza che effettivamente dal punto di vista delle esperienze VR, se escludiamo alcuni titoli come al Fly Felix, sembra parecchio notevole. Sembra qualcosa che effettivamente dal punto di vista grafico non si è mai vista a questo dettaglio, con questo livello di dettaglio. Non vediamo loro ovviamente di poter mettere le mani su PlayStation VR 2, di cui però non sappiamo ancora, come già detto, prezzo e data d'uscita. Signori, questo per le breaking news di Player Insider era tutto. Speriamo sia di vostro gradimento un appuntamento così anche ogni tanto. Spesso ci sarà Midna, ma stavolta, insomma, essendo notte non mi è stato possibile. Voi starete vedendo questo video durante la giornata, come tutti gli esseri umani normali, perché effettivamente è giusto così. Abbiate sempre un mio ritmo regolare, ma di cosa sto parlando? Sembra un boomer. Ciao, alla prossima. Ciao, alla prossima. Ciao, alla prossima.